Sesta corsa al Cilidiano, il premio. Sono 5 e 6 anni gli anziani agli ordini dello start, 9 rimasti dopo il ritiro di Zaydan Best, chiusura delle ali con Zagor San al comando. Nei confronti di Witton a largo e lungo i paletti si inserisce Zorever C.C.S.M. che lascia Witton a largo. 15 scarsi, 2 centri iniziali, Zagor San cerca di graduare nelle mani di Umberto Di Vincenzo. I confronti di Zorever C.C. e Vardar Falu. Witton si accoda terzo sulle difficoltà di Vardar Falu, 29 e mezzo, il quarto iniziale. Adesso c'è Zarina Di Roberto, aria in faccia. 600 in 44 e mezzo. Ritmo sollecito di Zagor San sul piede dell'1.14. Zarina Di Roberto fa fatica ad agganciarlo, si trascina Zizzolo Jet. Giro di pista in un minuto. ed un centesimo. Zagor San, Zorever C.C., Zarina Di Roberto. Zizzolo Getta a largo, 15 e mezzo il chilometro. Zagor San viene stappato, butta le orecchie dietro, Zagor San. Zarina Di Roberto lo avvicina. 14 e 8 la frazione di fronte. Ancora più dietro vanno le orecchie di Zagor San. Basta guardarle e lo si evince facilmente. Lo scatto di Zizzolo Jetta in terza ruota. Zizzolo Jetta seguito nell'azione da Vardar Falu. Battute conclusive. Con Zarina che è passata, ma è preda sia di Zizzolo Jetta che di Vardar Falu. Vardar Falu scatta a centropista e va a vincere. Vardar Falu. Vi vedete i metri finali. Diversi concorrenti su due in una linea. Sono in tre. Un'incertezza per Zizzolo Jetta. Vardar Falu con Crescenzo Maione. Passa e chiude. E poi il resto tutto nelle mani della giuria. Vedete i metri conclusivi con Zizzolo Jetta che per un attimo confonde il passo, il che non significa che sbaglia. Poi lo decide, ripeto, la giuria. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1.14.8. Sarebbe, anzi è, il doppio per Crescenzo Maione, per Ivano Fierro e per anche l'allevatore. Cambia solo il proprietario. In questo caso, Alfredo Sorrentino per Vardar Falu dopo il successo di Adrian Falu. Tra l'altro, entrambi i figli di Evladiceo.